ciao a tutti sono alessio diciannove otto cento e settanta altro gameplay di resident evil 4 via allora stanno andando avanti di qua la torre è un po' mi trovo qui non c'è niente a parte queste cose questi pezzi crollati all'està eccolo strunzo è morto si oh cazzo pezzo di merda crepa coglione mi sono accorto questo pezzo di merda 2200 ma un bidone monete guarda qua chi c'è la compagnia completo bomba a mano prendete questo mafiosi di merda si western stronzo vuoi prendere oh cazzo perfetto ok bidone bidone grata ciecante voglio la bomba a mano stavolta no prima andiamo di qua vedi 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 perchè le onde di qua ci sono le monete invece una scala a qualche parte eccola lacrima viola monete scendiamo adesso di là devo andare uh altre monete qua si si tirai questa cazzo di nevo di merda ok scendiamo scendiamo lacrima viola lacrima viola west west vedi qua di merda faccia coglione cazzo monete qua abbiamo qua uh bastone reale e qua comando io eccolo ma qui non c'è niente ma qui non c'è niente le trappole ma qui non c'è niente cazzo cazzo uh lacrima viola vai eccolo west 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 e il branco di stronzi qua no di là di là che vuoi avverti caniglio oh ne so uh cazzo ah si è fatto fuori da solo chi c'è oh cazzo guarda chi c'è il mafioso di merda con la motosega vediamo se posso entrare uh vediamo se riesco a spaccare la porta si ma vieni così faccio prima uh buon govano quello che mi serviva uè stronzo uè diciamo arrivederci coglione di merda ah ah sei morto diecimila uh mamma mia monete monete oh cazzo cazzo vuoi tu un po' no ok oh cos'è chiave per la miniera eccolo eccolo erba gialla niente eccolo uasteo tu anzi te oh 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 ah ah quanti cazzo sono Vincchio Vediamo un po' le punizioni Usiamo il percussone, va Che cazzo sono? Ah, eccolo Mamma mia No, non posso prenderlo Cazzo Oddio No, non posso prenderlo Oh I rinforzi, oh cazzo Muori, stronzo Allora Andiamo avanti di qua Allora Qua è chiusa Ok Vediamo un po' Monete, via Oh merda Pistola Facciamo poi questi stronzi qua Ok Oh merda Ok Aprire Uh 2000 1500 E 1800 E vai Che bottino Allora Munizione di pistola E le prendo E le prendo Ma qua non c'è niente Via Cos'è? Lacrima viola Via No No Entriamo qua Vediamo un po' qua Cosa c'è? Proietto di doppietta Benissimo Erba verde E la uso Allora Adessiniamo qua Questa leva E sto qua Nell'ultima fila Oh cazzo Adesso si che siamo Lo vedo Merda And cannon Prendi questo No Merda Sì Vediamo un po' le munizioni Niente Usiamo l'endercannon Usiamo le munizioni di pistola Ecco E te pareva Sì Ah non ne so 900 E 700 Metto qua in fondo Uh spacchiamo con la trave Perfetto Ecco E lui che la blocca E io lo fai fuori così stronzi Uh Munizioni Yeah Munizioni di pistola Vai Quelle doppiette Sono lì davanti Oh Mio dio Sì E vai Ma vieni Vaffanculo Ma vieni Eh che palle C'è un modo Per prendere queste posizioni Usare il percussore Prendete questo Ok Molto bene Però me ne libero subito Che non mi servono Ok Prendiamo quel coso lì I 10.000 Proietti doppietta Che mi servono E tu muori Coglione Alciniamo lì E ripartiamo So che ci sono altri stronzi In arrivo Eccoli I soliti Beh Beccati di questo Mica Tra in un colpo Perfetto No E' il talento Cannon Spariamo qua Trave Cazzo No Che culo Eccoli Prendete questo Sì Anche tu Ma vieni E vai Eh te pareva C'è un modo Per prendermi Aspetta Sparare questo Visto che Ok Ok preso Saltiamo No Che due coglioni Cazzo Posso prendermi Porca miseria Allora Spacchiamo qua Trave Perfetto I soliti Incoglioniti Guardali qua Sì Ma non ne so Che culo Mo' è fuori pista Che però Non posso fare niente Eh tanto sbagli Miram Pirolone Saltare Mamma mia Che culo Perfetto Non è andata di culo Aprire Cos'è qua? Pietra Sacrificale Molto bene Andiamo di qua Un'uscita Molto bene Uh mi trovo lì Mi sono andato con quelli stronzi di merda Sì Vediamo più il percussore E andiamo avanti Aspetta Questo va di qua Ok Mettiamo qua E' chiusa C'è scritto C'è scritto Offere sacrificio al leone Eccola qua Pietra sacrificale Ok E azioniamo Fine capitolo 4.3 Il prossimo Il prossimo è 4.4 Mi sembra che c'è un salvataggio di là Vediamo un po' Ecco il salvataggio Prendiamo i proietti La pistola C'è le munizioni E salviamo il gioco Aspetta Ecco Così va bene Questo Ok Allora Dunque Finisce qui Il gameplay Di Resident Evil 4 Un ciao Da Alessio 19 870 Al prossimo Gameplay Ciao